Ciao, sono Agnese Pelagaggi, da Mare Rosso, vi volevo leggere Con la pelle viva. Sento forte il pensiero di te che sfiora il mio cuore accartocciato, batte svelto al suono della tua voce, e il sangue rosso apre, come una rosa di maggio, i petali per accoglierti. Sei lontano fra le onde di una vita sconosciuta, e temo che il vento porti via con sé i sussulti e i palpiti fino all'orizzonte, dove tutto sparisce e si separa dagli occhi che vedono. Posso solo immaginare, stringere forte e aspettare che il mare, che si muove silenzioso nella notte, dondoli il mio desiderio, e lo stampi sulla pelle nuova, nata sotto la tua mano, che dolcemente la sfiorava, e lì, iscritta sulle pieghe del mio corpo, rimanga fino al tuo ritorno. Grazie. Grazie.